Salve amici, come state? Benvenuti. Oggi vi porto un'anteprima speciale di Terra Amara. Dopo ore di attesa per fuggire insieme a Zulia, Ilmaz afferma con rabbia che Ankar li ha traditi e ha raccontato tutto ad Emir. Così se ne va in macchina pentendosi di averle creduto e di essersi fidato di lei. Mugeigan e Fekeli arrivano a casa e chiedono a Beaccais se Ilmaz è già arrivato. Lei dice loro di no. Così Mugeigan sostiene che Ilmaz ha rapito Kerem. Fekeli le chiede di smettere di dirlo perché non ha senso che Ilmaz rapisca il suo stesso figlio. Beaccais difende la nipote dicendo che anche lei sospetta di Ilmaz perché si comportava in modo strano. Sembrava nervoso e si è persino rifiutato di lasciarla accompagnare nella passeggiata. Lei dice con rabbia che Mugeigan ha un diritto su Kerem e che Ilmaz non può separarla dal bambino. Fekeli la zittisce dicendo che è una sciocchezza e che sicuramente Ilmaz è andato a fare una passeggiata con suo figlio e torneranno presto. Ma Mugeigan insiste che Ilmaz scapperà con Zulia e prenderanno Kerem. Si precipita dentro e prende il telefono. Beaccais le chiede cosa farà e Mugeigan dice che chiamerà Ankar. Fekeli le chiede di riagganciare il telefono ma Mugeigan insiste che Zulia e Ilmaz stanno organizzando qualcosa. Ammine risponde e Mugeigan le chiede di chiamare Ankar. Ammine pensa che sia Sevda e la insulta. Mugeigan piangendola implora di chiamare Ankar ma in quel momento arriva Ilmaz con il bambino. Mugeigan riattacca e le strappa aggressivamente Kerem. Ilmaz chiede perché voleva parlare con Ankar. Fekeli risponde che è uscito con il bambino. Ilmaz chiede se non può nemmeno fare una passeggiata con suo figlio. Fekeli risponde che può ma che Mugeigan era preoccupata perché non erano tornati. Ilmaz offeso chiede se pensava che sarebbe scappato con il bambino e se è per questo che ha chiamato Ankar. Fekeli cerca di calmare le acque ma Ilmaz chiede a Beaccais se è stata lei a mettere in testa a Mugeigan quelle idee. Beaccais nega e si giustifica dicendo che quando ha preso il bambino all'improvviso è stata presa dal panico e ha chiamato sua nipote. Mugeigan si sente offesa dal fatto che le stia dando tutta la colpa quando è stata lei a dire che Ilmaz aveva rapito il bambino. Beaccais insiste che deve essersi trattato di un malinteso. Mugeigan. Vedendo che Ilmaz la guarda incredulo, le chiede aggressivamente perché la sta guardando come se fosse pazza. Beaccais le chiede di non iniziare una discussione quando ha già visto che il bambino sta bene. Ma Mugeigan risponde che nulla va bene anche se ha il suo bambino tra le braccia. Ilmaz le dà della pazza e Mugeigan le chiede con rabbia dove sia andata e perché ci abbia messo tanto a tornare. Così Ilmaz le dice con rabbia che non vuole discutere e se ne va. Fecheli dice a Beaccais che è molto deluso da lei perché invece di essere di supporto sta solo aggiungendo benzina al fuoco e le chiede se non poteva. Aspettare anche solo due ore dopo che Ilmaz aveva preso il bambino per accusarlo di rapimento. E commenta che era sicuro che Ilmaz sarebbe tornato presto e non c'era bisogno di fare tanto chiasso. Beaccais è d'accordo con lui ma si giustifica dicendo che Mugeigan lo ha incaricato di prendersi cura del bambino. Fecheli gli ricorda con rabbia che Ilmaz è il padre di Kerem e ha il diritto di passare del tempo con lui. Beaccais dice di saperlo ma di non potersi fidare di lui e di preoccuparsi solo di Kerem. Ma Fecheli risponde che non ha il diritto di fare storie perché un padre vuole fare una passeggiata con suo figlio. Chiede a Mugeigan se valeva la pena accusare il marito di rapimento quando Ilmaz è sempre stato al suo fianco e l'ha difesa anche quando ha cercato di uccidere Zulia. Lui le dice che se ha un problema la aiuteranno. Ma che in questo modo non fa altro che distruggere sempre di più il suo matrimonio. Quindi se ne va dopo averli avvertiti che non vuole altri problemi. Mugeigan commenta incredula che persino Fecheli si è arrabbiato con lei. Ma Beaccais la incolpa di tutto perché non dovrebbe parlare così al marito. Mugeigan insiste che Ilmaz stava progettando qualcosa ma Beaccais risponde che anche se sospetta di lui non può affrontarlo e accusarlo senza prove. Gli rimprovera di aver addirittura chiamato Ankar e gli fa notare che avrebbe potuto parlare con Ilmaz invece di generare una discussione e dice che questo genererà solo un divorzio e Ilmaz le toglierà la custodia del bambino. Ilmaz si reca infuriato alla villa. Bulten vedendolo gli chiede perché non se ne siano ancora andati. Lui risponde che Ankar ha parlato con Demir e li ha traditi. Estrae la pistola ed entra puntandola contro Ankar. Nel frattempo Demir porta Zulia a casa di Sevda e le lancia le valigie sostenendo che stava progettando di scappare con il suo amante. Sevda gli dice che potrebbe essere un malinteso ma Demir urla che stava andando con una valigia piena di vestiti. Prende i gioielli e chiede a Zulia se aveva intenzione di venderli. Sevdas le chiede di calmarsi ma Demir continua a urlare contro Zulia e dice che si vergogna molto perché le ha dato tutta la sua vita e le sue ricchezze ma lei non ne ha avuto abbastanza. Ilmaz porta Ankar in macchina sotto la minaccia della pistola. Mentre Gulten lo prega di non farlo e Ankar dice che sta commettendo un errore. Nel frattempo Demir chiede a Zulia dove avesse intenzione di andare con ilmaz. Sevda le chiede di fermarsi ma Demir urla che se non l'avesse scoperto Zulia avrebbe preso i suoi figli. Sevda le chiede di calmarsi ma Demir le dice che Zuleia è sua moglie e che aveva intenzione di scappare. Dice a Zulia che è stufo del suo rifiuto e le urla di andarsene per sempre. Le afferra il braccio ma Sevda si mette in mezzo chiedendogli di non toccarla perché sono in casa sua e non le permetterà di continuare a trattare. Sua moglie in questo modo. Demir lo avverte di non interferire ma Sevda gli dice che questo non è il Demir che conosce e che il figlio di Adnan non si comporterebbe così. Demir gli urla di non difendere Zulia perché è una peccatrice ma Sevda lo nega. Demir gli dice che Zulia è sua moglie e che vuole lasciarlo per andare con qualcun altro. Così Sevda gli ricorda che suo padre ha sposato Ankar quando ancora la frequentava. Demir dice che non è la stessa cosa ma Sevda risponde che lo è e che anche Adnan ha peccato ed è stato un traditore. Quindi se cerca di separare Zulia dai suoi figli non la rivedrà mai più e che se cerca di farle del male lei lascerà la villa per sempre e lui non la troverà. Demir si lamenta con lei perché dovrebbe sostenerlo invece di difendere Zulia. Ma Sevda gli urla che sta difendendo Zulia perché anche lei è una madre e capisce il dolore della perdita di un figlio. Quindi dovrebbe calmarsi e andare a prendere un po' d'aria per poter parlare civilmente con Zulia più tardi. Demir concorda con rabbia e avverte Zulia che dovrebbe ringraziare Sevda perché se non fosse stato per lei l'avrebbe uccisa. Demir se ne va e Zulia scoppia in lacrime mentre Sevda cerca di confortarla. Assicurandole che non permetterà a Demir di farle del male o di portarle via i figli. Gulten va da Cetin chiedendogli di cercare Fekeli. Lui le chiede preoccupato cosa sia successo. Gulten gli dice che Ilmaz è entrato armato in casa e ha preso Ankar e teme che la uccida. Fekeli arriva e vedendo Gulten la saluta ma nota che è molto nervosa e gli chiede cosa stia succedendo. Cetin gli racconta cosa è successo e Gulten gli chiede aiuto. Così Fekeli si precipita a cercarli. Ilmaz. Dal canto suo. Porta Ankar in una capanna mentre lei insiste che sta commettendo un errore perché non ha fatto nulla. Ilmaz la costringe a sedersi e le chiede perché è così crudele ma lei non risponde. Ilmaz le chiede cosa le ha fatto Zulia per farla soffrire così tanto. Dice di capire la sua antipatia per lui. Visto che Demir lo vede come il suo peggior nemico. Ma Zulia non ha fatto nulla a loro e le chiede perché abbia fatto la spia con Demir. Ankar gli dice che non l'ha detto a nessuno. Ma Ilmaz risponde che lui si fidava di lei e l'ha persino compatita al punto di accettare di fotografare i bambini per non farli mancare. Ma li ha traditi. Ankar giura di non aver detto nulla a Demir. Ilmaz gli chiede di non giurare in vano perché sa che sta mentendo e che ha tradito lui e Zulia. Gli chiede se non è pentito ma Ankar insiste che non ha parlato con Demir. Ilmaz gli urla di stare zitto e Ankar gli dice che allora dovrebbe farla finita in quel momento e ucciderla. Così Ilmaz alza la pistola mentre Ankar si inghiozza e chiude gli occhi pronto all'impatto. E questa è la fine di quest'anteprima. Alla prossima volta.